salve vi presento anche questa volta qualcosa di interessante un piccolo gadget che potrà essere utile per conoscere lo stato della batteria della vostra auto questo gadget mediante un led potrà darvi diverse informazioni sui vari voltaggi della batteria compreso lo stato dell'alternatore quindi è inutile che divaghi vi rimango direttamente al video vi faccio vedere come funziona e vi raccomando più di like buona visione grazie a tutti grazie a tutti allora la prima cosa da fare è trovare dove mettere il nostro monitor di stato per la batteria in questo caso ho pensato visto che mi è più comodo di installarlo proprio qui dentro qua allora per togliere questo qui questo modello qui di auto in appunto evo porta due mollettine a sinistra e a destra con l'auto di un calciavite cerchiamo di toglierlo ecco qua c'è montato io per il mio lavoro già ho predisposto tempo addietro già i connetture per alimentare i dispositivi stanchiamo questo qui e adesso questo qui lo porto su in officina e lo modifichiamo per il nuovo dispositivo quindi dopo aver modificato il contenitore adesso procediamo al montaggio ecco qui mettiamo prima lo smettere l'alimentazione della luce e il cavetto che avevo già premontato in precedenza ecco funzionante ecco funzionante proviamo adesso accendo la macchina mettiamolo in moto ed è andato a blu adesso spegniamo è cambiato di nuovo colore ma già perché sta cambiando i valori di tensione adesso metti in moto diventa rosso perché scende il suo valore di tensione per la messa in moto hai visto? con l'auto fatto alla prossima grazie grazie grazie